Questo inverno sono salito sulle piste per più di 100 giorni. Prendo la prima funivia del mattino e scendo verso sera. Questo è il mio mestiere, ma quando sulle nostre montagne splende il sole è sempre un'emozione. Il sella, il sasso lungo, la marmolada, lavorare qui è un grande privilegio. In questa stagione ho insegnato a sciare a quasi 400 ragazzi. E tutta la mia scuola ha fatto lezione a 21.000 allievi. Per questi piccoli sciatori scendere sulla neve è un gioco. Ma c'è una cosa davvero importantissima. Dire bravi ai nostri ragazzi quando se lo meritano. E soprattutto divertirsi assieme a loro. A fine stagione anche noi maestri ci togliamo qualche soddisfazione. Yahoo! E ci concediamo un po' di relax. Ma la domanda che tutti mi pongono. Cosa fanno i maestri ci in estate? Venite a scoprirlo in Val di Fassa. Ciao! 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 Ciao!